ma che cazzo stai? ma che cazzo stai? ma che cazzo stai? ma che cazzo stai? dove cazzo vuoi andare? rifare, rifare, rifare no rifa, rifa tirate gli ricci, tirate gli ricci, rifa, rifa, se no non lo provi mai muoviti sponfato dai che ci vuole un attimo a te così vuoi farti chiamare papà? vai nooo sto abituato non è meglio che ti spogli un po' tanto non ci arriva qua se ti scaldi tanto poi fai una fatica bestia tanto non ci arriva fino a qua il mattino arriva qua e fa un numero della macchina vuoi scommettere? e ti tira la moto in testa è meglio che ti levi guarda faccio la fine del burbero ti cazzate quando fa così no fermi 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 tutti terza! eh? è un sasso la gomma dietro non può venire tu terza anche quarta si c'è c'è arriva addosso arriva addosso io caro paperissima sprint sei pazzo e che cazzo ti prendeva? eri su a due metri e mezzo io ti potevo solo prendere addosso ti centrava in pieno robin in pieno si arrivava lì ma l'hai visto come l'ha puntato? mi ammazzavi? cosa hai rotta? va va adesso sistemiamo preoccupi noi è tutta terra non si rompe niente